Il futuro del laboratorio culturale autogestito manituana di via Padova è al centro di numerosi dibattiti e polemiche ormai da più di cinque anni ed è incerto. Lo stabile in questione è di proprietà di AMIAT ed è autogestito dal gennaio del 2019, periodo in cui gli occupanti hanno iniziato a organizzare legalmente eventi e feste abusive, ma nonostante la richiesta dell'opposizione comunale e le accese discussioni che a settimana alterna si verificano in circoscrizione in altre sedi, continuano a non esserci interventi di sgombero in programma.